Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Oggi non deve trarre in inganno il numero molto basso dei nuovi positivi, vale a dire 173. Quello che conta, in casi come questi, con un numero molto basso di test esaminati, tra molecolari e antigenici, complice soprattutto la giornata festiva di ieri, e il tasso di contagiosità, che è del 9,9%. Più di un punto percentuale rispetto a 24 ore fa, ma la cosa è normale, visto che di questi tempi, coloro che si recano a farsi il tampone, sono coloro che hanno un valido motivo di pensare di aver contratto il Covid. Non c'è una corsa indiscriminata al tampone, come nel periodo peggiore della pandemia. Visti i numeri, sono praticamente insignificanti i riferimenti ai territori provinciali, dal momento che la provincia di Chieti conta 63 nuovi positivi, quella di Teramo 41, quella di Pescara 35 e quella di L'Aquila 22. Sono quattro i casi provenienti da altre regioni e otto quelli per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dopo lo zero di ieri, oggi purtroppo si torna a contare delle vittime. Sono tre le persone che hanno perso la vita e sono tutte della provincia di Teramo. Il totale dei deceduti a causa del Covid in Abruzzo sale così a quota 3.333. Si riaccende dopo un po' di tempo la spia dell'allarme per quello che riguarda i ricoveri ospedalieri. Nulla di veramente preoccupante, però serve a non fare abbassare la guardia. Sono dieci più di ieri, infatti, i ricoveri nelle aree mediche delle strutture regionali. Questo fa sì che i pazienti ricoverati sono adesso 178. L'altra faccia della medaglia, sicuramente migliore, è il dato che fa riferimento alle terapie intensive, dove si registra un meno uno rispetto a ieri e adesso i letti occupati sono solo sei. Diminuiscono di 403 unità coloro che si trovano in isolamento domiciliare per un totale di 18.265 persone. Sono abbastanza anche i guariti di oggi, 564. E questo dato, superiore a quello dei nuovi positivi, fa sì che il numero degli attualmente positivi, calcolato sottraendo al totale dei positivi il numero dei guariti e dei deceduti, sia più basso rispetto a ieri di 394 unità, per un totale di 18.449.